E per tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mattia Valentini e vi porto un video su Fortnite Stiamo già entrando, ci vediamo appena entro, anzi no, faccio caricare con voi Ok, non ci sarà la webcam, perché non ci sarà, però Noi vi posso portare un video da play, e da tanto io non ve li porto i video da play Anzi non ve li ho mai portati, perché con il mio vecchio telefono non c'aveva abbastanza spazio Ora però che ce l'ho, ve lo porto Stiamo entrando su Fortnite, e come prima partita faremo Rizio Squadra, e poi faremo Arena Singolo Guardiamo se c'è qualche mio compagno, aspettate prendo le cuffie militari Ok Adesso stiamo entrando, intanto ho scelto le cuffie perché almeno se c'è qualche mio amico gioca con lui E se c'è qualche mio amico gioca con lui, e se vuole fare creativo giochiamo creativo e mi alleno meglio Però Ok Allora Niente Ok non c'è nessuno, però vabbè Cosa è che c'è la ricorriera Ok, via Ok 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 Facciamo un emote Bello dove ho sciolto Guardate, mi basso un pochino il volume Vediamo su senza Sento troppo Botte Ora siamo entrati finalmente ragazzi Ragazzi Ragazzuole nonna saluta saluta a tutti i miei fan brava ok forse posso provare a ingrandirvi l'immagine ok questo è il massimo provo leggermente un pochino di più in grandi se non è diventato troppo grande poi non vedete quello che succede ok io faccio tutto ciò che faccio nelle parti normali sicché ora capirete quanto faccio schifo che gente a terra è la casa che volevo io che sfiga ma torniamo qua comunque una buona casa ok e che sfiga oh che bell'arma qui c'è da niente non credo qui è vero che posso prima scendiamo ah ecco un mare un ma da che schifo non ho un'arma c'è solo sta k viola magari un pompa grazie no scar niente c'è la k viola che tengo la k viola ok sceldini e mi sbaglio sempre e sceldoni sceldoni dopo eh bene comunque ci sono delle belle ville ti prego fornit stanno un pompa niente 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 c'è quattro oh l'ho chiesto grazie warnet quando quando você sarà gentil non vuoi però non non l'amè in non 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 a presto Sì Grazie. Cazzo ecco il cecchino, ops scusate la parola. Grazie. Ora quando mi scelgo già andiamo magari ok, l'ho fatto. Ok, a marica. Ti aiuto, eh vabbè, erano tre, vabbè, era impossibile che vincevo io, però anche io sono scemo, manco sparo. La cilanzia è l'abitudine di nobilità. Grazie. Buon beach, baby. Bella. Vabbè. O comunque la gente è proprio una abba, eh. C'è chi è FK diciamo, meglio che mira solo ad una persona. Vabbè, vabbè, vabbè. No, vabbè, mi dispiace per lui ma non posso. Sto facendo. Diego. Diego. Abbandono. Sì, sì, sì. Abbandono. Ma sì, dai. Vai. Si gioca insieme? A che cosa? Sto facendo un video, eh. Vabbè. Fai entra su YouTube. Vabbè. Che cosa si fa? Creativa? Ok. La metto. Ok. Ora fammi tornare alla lobby. La metto. Ragazzi, è un nostro amico. È un mio amico. io, Diego. Diego. Vabbè. Secondo. 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 Anche oggi ho fatto singolo, arena singolo. Secondo. Accidenti a quello che aveva il cecchino I barrette anzi Ma accidenti a me avevo il lanciarazzi Beh Diego Cosa gli è successo? Diego Ragazzi è successo qualcosa a Diego Diego Perché? Non fa nemmeno invitare Boh vabbè raga E ritorniamo a fare le squadre Boh non si Vabbè Ma torniamo a fare le squadre Accidenti l'ho fatta abbandonare Poi si disconnette Ma va va Ma perché? Cosa gli è successo poi? Non me lo fa nemmeno più invitare E non me lo fa invitare Vabbè giocheremo noi Mi nonna Lei vi ha salutato prima Dorme Non so se mi si sveglia però Un'emoto Un'emoto Vi faccio un'altra Pioggia di fuoco Al mio pubblico Non darò mai 4 Non darò mai 4 Darò sempre se mi uscirà eh No manco 1 Si sono i numeri 1 Il mio pubblico Però non dare mai 1 Al mio pubblico Nemmeno 3 3 proprio mai Ecco 2 manco Perché è il primo posto dei perdenti 1 perché siete i numeri 1 Madonna Vabbè 5 Facciamo un balli Facciamo queste poi forse Ciao Diego 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 Eh appunto Mi dava disconnesso Eh Sì sì Metti creativo allora Diego 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 Tu sei? Sì ora sì Ah mi dispiace Ma intanto facciamo un po' di creativa Vai 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 No Non avevo mai registrato la Play Bello Cosa? Cosa? Un altro rotello Da sua mamma Un altro babbo Comunque noi a scuola È una rottura Cioè ora dobbiamo anche partecipare alle lezioni nella classe virtuale Cioè è noiosissimo No ma nemmeno noi Noi si fa in classroom Che scherzo Che scherzo? E D o? O D? Ok Speriamo oggi faccia veloce Luigi Con Raffa Come Raffa ha fatto veloce oggi Però Siamo sicuri che faccia veloce? E inizia a laggare E inizia a laggare Sì ma lagga un botto Diego mi lagga un botto No No Aspetta ti faccio piovere un po' di soldi addosso Allora Girasi verso di me? Ecco siamo entrati No Allora Boh Che armi che si vuole? A parte Perché spam? Cioè in che senso spam? Ah ok Vabbè io la minica non la prendo Allora Ecco lo scarro Bravo Bravo Oh non la ha strano Arrivo 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 Ehm 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 No Ehm 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 Ma basta Ehm Si Te Ehm 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 nè 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 guarda eh grazie c'è un HP mi ha lasciato un HP che liscio che liscio ti ho fatto vero? povero povero stavo costruendo a caso perché non sapeva che Mattia lo stava aspettando ah ah eh va bene dopo è che che caretino ah ah sembra una scimmia come oggi con Raffa c'è davvero la scimmia oh ih ih ah 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 ih ih no e vabbè e non so che dove lasciami è una cosa che ha fatto a caso che hit ti vedo eh no scendi se mi vuoi c'ho pochissimi HP c'ho pochissima vita quanto mi hai fatto quanto mi hai fatto ah ho capito io ho capito sei nedshot ci ho fatto sei nedshot avevo capito su affacciati Diego Barta 10 è una figata vedere nel telefonino durante video il cecchino la mira del cecchino è una figata nel telefono va bene ti contabitai tutta hai vita piena ah perché ti si rigenera quando uccidi vieni giù no dai ma perché come cazzo fai dai no 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 non ti cecchino no ti faccio solo paura oggi è verissimo però ti è comacciato quanto ti ho fatto liscio ah ok eh ma il colpo comunque è passato attraverso la fessura attraverso la finestra su dai ma dove cacchio sei? no lo volevo prendere la jump si si perché non potresti? aiuto aiuto ah 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 prova salta giù e fammi l'headshot ah 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 non ridere forte così ah 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 ricarica cecchino no ok non c'è bisogno lui non vuole pushare lo so e vabbè e costruisce ah 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 Bunu aiuto io in caso canuto no ma perché io non costruisco non lo so no youtube non ho sparato intanto il video mi sta andando avanti siamo già a mezz'ora c'è probabilmente che è una live non live non so guardando stacca pi grazie no che bello volare no tanto ti vedo no ancora tutta capìa io tanto avevo ancora tutta capìa mi avrei scelto 157 e non in testa dai su appari caduto tanto io c'ho all'altezza e dalla su aiuto no o ti faccio un headshot col pompa o sono morto 29 hp o 25 non lo so comunque ho pochissimi hp dai ho pochissimi hp ah non mi piace il ticchino no No! Quanto liscio! Ma ti sei mosso? Ti ho visto e sei mosso. E anche prima. Quanto ti ho fatto? Quanto ti ho fatto? Una vera si lecce. Quanto ti ho fatto? No! Ho fatto! C'è... No! Sto caduto! No! Non è vero! L'ho fatto! Non ho mai preso tanto! Ma tro... Ma tro... C'è due HP? No! No! Ora veramente c'è due HP! Non lo so! Non lo so! E' la lag! Non desci provare! Esparti! Ma trope il gatto. Non asciro... andiamo a pusciare cieco no in aria ora no all'ultimo fight no vai scendi fight a terra ok fight a terra no fuck fuck vai la baina no no accidente è bene sono che sono scemo no no aiuto e vabbè che sfida che sfida ciao ciao ok ragazzi avete ci avete appena visto giocare questo video finisce qui vi lascio con questa immagine e ciao